Il crossfit è lo sport del fitness, non solo diventerai più forte, più veloce, più resistente, ma la cosa più importante è che derrai lontane da te malattie metaboliche come diabete, obesità e tutti gli altri tipi di malattie. La forma fisica che raggiungerai nel box ti tornerà utilissima nella vita purita al box, nei movimenti quotidiani, la forza e la resistenza raggiunta con i tuoi allenamenti ti aiuteranno nella vita di tutti i giorni. Una nuova casa per il crossfit 4 Leone, ci siamo trasferiti, siamo sempre a Vallo della Lucania, partiamo con il dare le indicazioni, dove ci troviamo? Ci troviamo in località Forestella, a 100 metri dalla piscina comunale, quindi facilmente raggiungibile sia dal centro che dall'uscita della superstrada. Vediamo in corso una lezione di crossfit, questo è un box ufficiale di crossfit, che cosa significa? Sì, che siamo affiliati a crossfit, che è una società americana e appunto ha inventato questo programma, questo protocollo di allenamento che serve appunto a mettere in forma le persone, a rieducarli al movimento, una cosa che si era ormai persa, che in base alla vita sedentaria che facciamo non eravamo più abituati a muoverci come madre natura ci ha costruiti. Ma rispetto ad una palestra tradizionale dove vediamo tanti attrezzi? Sì, la maggior parte delle persone infatti ci chiede il perché dell'assenza degli attrezzi tradizionali che troviamo nelle palestre classiche di bodybuilding. Quindi il punto è proprio questo, noi non lavoriamo sui singoli muscoli ma lavoriamo sui movimenti. Quindi attraverso una sequenza di esercizi andiamo a rieducare il corpo umano a muoversi così come è stato creato. Quindi non badiamo tanto all'estetica ma badiamo alla cosiddetta performance, sempre tra virgolette. Lavoriamo nella stessa programmazione su tutte e dieci le abilità del fitness, quindi sia il lavoro cardiovascolare che quello di condizionamento muscolare vero e proprio, al lavoro sulla postura, come abbiamo detto, la vita sedentaria e lavorativa di tutti i giorni ci porta ad assumere delle posizioni sbagliate, tutto questo attraverso un allenamento divertente e sempre vario. Sono in fase di riscaldamento, tra poco inizierà la lezione. Com'è strutturato un box di CrossFit? Allora il box di CrossFit, CrossFit innanzitutto cos'è? È un insieme di tre discipline che si fondono in una miriode di combinazioni. Quindi si fonde quella che è la ginnastica artistica, tutto il lavoro che si fa a corpo libero con l'attrezzistica, gli anelli, parallette, barre, sia sollevamento olimpico, ciò che si vede alle Olimpiadi, col bilanciere, strappo e slancio, abbinato tutto a dei lavori aerobici, quindi corsa, vocatore, arrampicata, bicicletta, simulatore di sci, tutto questo si fonda in un unico programma e si va a creare la cosiddetta classe. Adatto a tutti? È adatto a tutti perché tutti gli esercizi, anche i più difficili, sono scalabili all'infinito. Nella stessa classe possiamo trovare l'atleta che gareggia e la persona settantenne che si allena per tenersi in forma. Quindi tutti gli esercizi sono scalabili sia per intensità che per carico di lavoro. Sono sette anni che lei lavora dietro a questo progetto, sempre in crescendo, anche questa sede, insomma un'ulteriore crescita della sua attività. Sì, sono sette anni, è stata un po' una scommessa all'inizio perché andare un poco a modificare totalmente il concetto di fitness non è stato per niente facile, ma fortunatamente grazie anche a chi ha creduto in noi stiamo crescendo e sentivamo l'esigenza di trasferirci in un box più grande. Adesso è uno dei più grandi in Europa ed è il più attrezzato. Sì, siamo contenti così. È un po' uno stile di vita, non solo movimento, ma comunque va sottolineato anche l'importanza dell'alimentazione. Ci sono dei programmi apporti. Sì, la piramide del CrossFit parte appunto dall'alimentazione, quindi la nutrizione è alla base del programma di CrossFit. Solo dopo viene il condizionamento metabolico e poi le attività, le discipline specialistiche, quindi ginnastica, sollevamento pesi e sport in generale. È un po' di tutte le indicazioni vostre. Sì, 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 certamente. Siamo a febbraio, primo febbraio precisamente, manca ancora qualche mese per l'estate, però come dire, non è mai tardi, non è mai presto per mettersi in forma e per iniziare. Sì, tra l'altro abbiamo un programma che dura appunto 90 giorni. Chi decide di partire adesso si troverà in perfetta forma per l'estate. Senza routine, gli allenamenti saranno sempre vari, il divertimento è la base della nostra attività, quindi è un momento buono per iniziare. Qual è il suo suggerimento per tutti? Quali sono le sue parole che devono arrivare? Che lo sport ormai è una medicina vera e propria, che fortunatamente non somministra il medico, ma basta soltanto un poco di buona volontà, dedicare tre ore a settimana per il benessere. Il crossfit, come tanti altri sport, aiuta a mantenere lontana la malattia, sia malattie metaboliche, non obesità, come diabete, ma tutti altri tipi di malattie. Tutti i leoni? Tutti i leoni, sì. Sì. Sì.